Bene, ogni regione all'interno della nostra nazione ha una propria legislazione specifica. Nel caso relativo alla regione Lombardia si parla di raccomandazioni, quindi non ci sono dei veri e propri obblighi, ma la raccomandazione riguarda anche la necessità di garantire la qualità microbiologica dell'acqua a rubinello. In questo senso nelle case di riposo e negli hotel nella nostra regione la frequenza è semestrale, mentre fra poco andrò a fare delle analisi a livello condominiale, magari in quei casi è più un discorso annuale, così come anche a livello dei nostri amici dentisti risulta essere sempre annuale. È vero che nel caso di positività la situazione si complica enormemente e le frequenze possono aumentare notevolmente. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!